ciao ragazze ciao a tutte e ciao a tutti come state belli e belli allora nuovo video che riccio per parlare un po con voi si lo so sono contro luce ma non ci posso fare niente perché non trovo bene come fare questi video che ricci stavolta non sono più né col telefono né con l'altro telefonino ma pensi con la mia amata canon ebbene sì perché ho deciso che i video fatti con il cellulare non sono un massimo soprattutto quando uno ha la canon bella bellissima ma non di quelle canon che costano un migliaio di soldi quindi ho detto perché non farla con la mia solita canon che ho in camera mia ed è comunque a fare i video allora dunque prevetto che non starò molto a fare sto video perché la telecamera quasi scarico quindi mi devo anche spiegare allora ho appena mangiato ho appena ho appena mangiato una scatola di tonno non ho mangiato un altro perché non ho fame stasera non lo so perché non ho fame però mi sono raggiocchiata dai il trucco di oggi è questo che vedete addosso a me intorno alla mia facciolina eccola qua intorno alla mia faccia e questo è il mio trucco aspettate che voluto un po se mi riesce non ho detto neanche mi riesca aspettate questa è la mia il mio trucco e niente aspettate un secondo si sta per chiudere la registrazione e mi sa che devo lasciarvi però ti dico che per stasera non farò gran che però almeno riuscirò spiegate un attimo che voglio vedere ok si sta registrando voglio vedere se riesco a fare qualche altra cosa di bello per voi altre video registrazioni nel frattempo metto carica questo questa macchina e poi ci torniamo per un altro video perché non è finito qui ragazze e no quindi stasera guardate un altro video vostro ritorno ad altri canali che non ancora visto che non ancora vi ho visto se mai poi niente farò altri dei video e ok ragazzi adesso vado e ci vediamo nel prossimo video ciao mettete un bel like il supporto un commentino e soprattutto iscrivetevi se vuoi e attivate la campanella per non perdere il prossimo video aggiornamento ciao aspetta un secondo ovviamente siete messi qua guardate dove siete messi qua siete messi per capirci un po la situazione qua sopra eravate messi e vabbè niente oppla niente presto un bacio ciao ovviamente la situazione del mio letto è questa per fortuna è bello ordinato e tutto quanto a parte i fili filacci che ci sono e tutto il resto e niente ragazze questa è la coperta per quando io ho troppo freddo questo mio cappotto per riuscire in giro e basta sì dopo devo ancora pulire i vetri e tutto quanto anche questo vetro devo pulire questo sì ciao ragazze ciao allora ultimo videoclip poi vi lascio andare allora prima di tutto non so se scusate se sono riuscita a fare questo clip ma spero di sì perché vi semplicemente che ci vediamo domani mattina se riesco non è detto ciao